hello kids oggi faremo insieme un breve ripasso del verbo have goat di cui abbiamo ampiamente parlato a scuola però penso sia importante riprenderlo un po' anche perché have goat è molto importante ci serve proprio per poter descrivere fisicamente le persone quindi per poter descriverne il colore la lunghezza dei capelli hair per poterne descrivere il colore degli occhi eyes per poter anche non so dire se una persona ha o meno le lentigini freckles oppure se porta non porta gli occhiali glasses in fondo invece alla slide vedete anche il verbo to be che invece ci serve sempre per descrivere le caratteristiche fisiche di una persona in maniera specifica per poterne descrivere la statura i'm tall sono alto i'm short sono basso e poi anche per poterne descrivere la corporatura per esempio se devo dire che questo bambino è grasso io dirò he is fat quest'altro invece magro quindi dirò he is thin nella seconda slide che vi ho preparato ho praticamente costruito delle frasi affermative affirmative sentences e cioè delle frasi come dire composte da have got quindi dal verbo avere dal verbo possedere seguito poi dalle caratteristiche fisiche delle persone per esempio qui abbiamo I have got or I've got blue eyes io ho gli occhi azzurri se vedete vi ho messo sia la forma intera have got ma anche la short form e cioè la forma breve I've got you have got or you've got green eyes and brown hair tu hai quindi gli occhi verdi e i capelli castani qui poi vi ho messo anche la differenza di colore tra he e she che abbiamo sempre utilizzato a scuola proprio per ricordarci che he viene impiegato quando ci riferiamo ad un soggetto maschile lui she invece per un soggetto femminile lei he has got or he's got glasses lui porta gli occhiali she has got or she's got blonde hair and freckles e cioè lei ha i capelli biondi e le lentiggini it has got or it's got black eyes e cioè ricordate che it invece lo utilizziamo quando vogliamo riferiamo quando vogliamo riferirci agli animali o alle cose per cui facciamo un'ulteriore distinzione rispetto a lei e a lui quindi in questo caso lo definiamo esso essa we have got we've got braids e cioè noi abbiamo le trecce you have got or you've got curly hair cioè voi avete i capelli ricci they have got or they've got straight brown hair cioè essi loro hanno i capelli castani e straight e cioè lisci quindi notate anche già due termini opposti straight, lisci, curly, ricci in quest'altra slide invece vi ho riproposto un come dire ripasso della forma negativa di have got abbiamo imparato comunque che per poter formare per poter costruire negative sentences e cioè delle frasi negative basta praticamente aggiungere not dopo have o dopo has quindi I have not got you have not got he has not got she has not got it has not got we have not got you have not got they have not got e qui a fianco anche messo la short form e cioè le come dire la forma breve I have not got becomes diventa I haven't got you haven't got you haven't got he hasn't got she hasn't got it hasn't got we haven't got you haven't got they haven't got poi anche qui in fondo vi ho aggiunto alcuni esempi we have not got freckles non abbiamo le lentigini or we haven't got freckles quindi forma intera e short form she has not got long hair she hasn't got long hair quindi due frasi due modi per poter dire la stessa cosa infine vi ricordo anche come faccio a costruire delle domande questions ricordate sempre il piccolo cambio che facciamo at the beginning of the sentence e cioè all'inizio della frase proprio perché non facciamo altro che mettere sempre have or has e poi sempre il resto della frase per cui have I got brown hair come faccio a rispondere sempre con una short answer yes I have or no I haven't have you got curly hair yes you have oppure no you haven't has he or she or it got black eyes yes he or she or it has oppure no he or she or it hasn't have we got freckles abbiamo le lentigini yes we have or no we haven't have you got glasses avete gli occhiali portate gli occhiali yes you have or no you haven't have they got braids loro hanno le trecce yes they have no they haven't per oggi bambini ci fermiamo qui spero di avervi come dire aiutati a ripassare un po' have got e nelle prossime lezioni comunque andremo avanti e vi spiegherò qualcosa in più bye bye ciao